Per ritrovare il corpo senza vita di Claudio Basilavecchia, 24 anni, di penne, morto mercoledì nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Punta d'Erci a Vasto, ci sono voluti tre giorni ininterrotti di ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera che hanno sfidato un mare Forza 4 mettendo a rischio la propria vita. I sub dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzio hanno recuperato il ragazzo poco dopo le 18 di ieri, quando ormai le speranze di trovarlo in vita erano svanite. Claudio Basilavecchia è la seconda vittima di una giornata di vacanze al mare finita in tragedia per un gruppo di amici tutti pennesi. Assieme a Claudio infatti è stato portato via dalla Forza della Corrente Marina Marco Riccitelli, 29 anni. Invece salvi per miracolo, aggrappati ai pali del trabocco, altri due ragazzi della comitiva tra cui il fratello di Marco Riccitelli, oltre ad un turista di Lecco. Il riconoscimento del corpo di Marco Basilavecchia è stato effettuato dallo zio del ragazzo dopo che la famiglia aveva seguito da vicino le operazioni di soccorso. Grande lo spiegamento di forze per le ricerche estese fino in Molise a Termoli, impegnati oltre 30 uomini, un aereo Manta specializzato in questo tipo di operazioni, un elicottero dirottato dalle zone terremotate e alcune motovedette della Guardia Costiera. In più a Punta Derci sono arrivati anche i sommozzatori da Napoli e i sub dei Vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi che hanno poi effettuato il recupero del corpo.